ecco che siamo partiti per questa finale partiamo dal tredicesimo giro adesso il tredicesimo passaggio e andiamo siamo al passaggio numero 12 e del campana dal prossimo giro diamo i numeri in tutti i sensi nel senso che diamo i punti dal prossimo giro dai cerca di attaccarti e andiamo primi punti al passaggio numero 11 48 e 319 giusto? 319 perfetto e andiamo passaggio numero 10 punti punti dai dai uovi col braccio 42 e 48 si può accompagnare andiamo attraversi piuttosto attraversi si può metterla passaggio si può metterla e belle e andiamo passaggio meno 9 passaggio meno 9 punti 42 e 76 atleta 4-0-5 ammonita e andiamo passaggio meno 8 passaggio meno 8 4-0-3-4-5 4-0-5-4 vai al tuo passo tranquilla passaggio passaggio al meno 7 punti 46 4, 5, 4 Atleta numero 430 Ammonita Alto Carola Passaggio al meno 6 4, 0, 5 4, 9, 8 Sono i punti al passaggio al meno 6 Punti al passaggio al meno 5 Abbiamo 42, 430 Passaggio al meno 4 4, 3, 0 42 I punti Passaggio al meno 3 Passaggio al meno 3 48, 4, 3, 1 48, 4, 3, 1 Passaggio al meno 3 E andiamo al passaggio meno 2 Ancora punti 48, 4, 5, 4 Per i punti L'Atleta 4, 9, 8 Zanella, Cecilia Ammonita E andiamo Passaggio al meno 1 Campana Punti 4, 0, 5 4, 3, 0 Gli ultimi punti per passaggio al meno 1 Ma adesso è Campana Ultimo giro Si diamo punti al primo Il secondo E al terzo Per definire La classifica finale Di questo campionato regionale strada Quindi Andiamo a vedere Con la spaz Nell'ultimo giro La chiusura Ultima curva Entrano Nella rettilineo finale 2, 3, 2, 3 Vicinissime E adesso diremo anche i numeri La numero 48 viene ammonita Iannarelli Giorgia In questa finale Ce ne arrivate L'ultimo giro 4, 9, 8 4, 5, 4 E 4, 3, 0 Loro prendono i punti Nell'ultimo giro Loro prendono i punti Loro prendono i punti Loro prendono i punti Nell'ultimo giro Loro prendono i punti